Ieri mattina sono partiti i lavori all'imbocco della foce del foglio, un intervento che abbiamo fortemente voluto come regione Marche, quindi ringrazio chiaramente il Presidente Acquaroli, l'assessore Stefano Guzzi, un intervento ormai che i diportisti e la città di Pesaro aspettavano da tantissimi anni. Siamo passati dall'intervento spot, un intervento veramente radicale ed importante che ha una duplice funzione, sia quella di consentire l'ingresso e l'accesso in sicurezza ai diportisti in entrata e in uscita, dall'altro lato comunque sia anche dopo le ultime tragedie delle alluvioni una garanzia in più di discorrimento del fiume Foglia, quindi una duplice funzione veramente importante per il nostro territorio.